Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e lodare e dare tutti i lodi dovuto al padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re e renentore Yahawa Shai. E i miei saluti alla casa di Israele a coloro che con sincerità cercano la verità, coloro che fanno il lavoro di spaggere questa verità affinché possa arrivare nei quattro punti della terra. Shalom. Shalom. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato tutto quello che sto per insegnarvi ora. Beh, questo video sarà la continuazione sul libro di Apocalisse e l'ultimo video che ho fatto riguardo il libro di Apocalisse era l'Apocalisse capitolo 5. Perciò oggi spiegherò attraverso la forza di Yahawa Ba Hashem Yahawa Shai capitolo 6. Ok? Per capirne di più ne ho fatto una sorta di introduzione al libro di Apocalisse e non vorrei fare sempre queste introduzioni su ogni video sennò li tengo troppo lunghi. Ok? Ora vedremo dove arriveremo perché ce ne sono tanti precetti su questo libro ma speriamo di arrivare diciamo alla fine. Ok? Perciò per capirne di più basta tornare a vedere i video che ho fatto in precedenza. Ok? Su libro di Apocalisse iniziando dalla prima guerra mondiale e nella Bibbia. Ok? Quello era riguardo il libro di Apocalisse anche e là ho fatto le introduzioni. Poi ho fatto capitolo 5 e inizio ora nel capitolo 6. Ok? E qui ho la versione della scrittura nuova riveduta 2006. No scusatemi. 2006. Ok? Perché credo è tra i più facili da capire ma vi dico per capire le scritture bene dovete paragonare tutte le versioni che avete. E questa applicazione qui è un'applicazione perfetta. E' la Juve versione della Bibbia. Non sto facendo nessuna pubblicità perché non c'entro nulla con chi l'ha fatto l'applicazione ma a me va bene perché posso vedere diverse versioni qui. Ok? E fare il paragone. Bene, detto questo inizio leggendo. Poi vedi quando... No? Ok, questo è l'inizio. L'apertura dei primi sei sigili. Poi vedi quando l'angelo apri uno dei sette sigili e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono Vieni, guardai e vedi un cavallo bianco. Colui che lo cavalca aveva un arco e gli fu data una corona ed è lì viene fuori da vincitore e per vincere. Ok? Questo è abbastanza facile da capire. Si parlava del figlio del padre, Yahawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Ok? Era lui questo primo sigilo. Ho venuto con il cavallo bianco. E per darvi un precepto veloce su questo, per farvi capire di più, basta andare su sempre questo libro di Apocalisse. Ok? E capitolo 19. E si trova in versetto 8. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Ok? Capito? Ok? Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, puro, bianco, ok? Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Anzi, andiamo a vedere un'altra versione. Vediamo la Diodati riveduta. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, risplendente, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Ok? Spero che le avete capito. Che qui sta parlando del figlio. Ok? E vedi, ed ecco, un cavallo bianco. E colui che cavalcava aveva un arco. E lì fu data una corona. Ed è lì, uscì fuori da vincitore e per vincere. Ok? Sta parlando del figlio del padre. Andiamo avanti. E quando ebbe aperto il secondo suggello. Ok? Anzi, andiamo a leggere. La nuova riveduta, 2006. E quando l'angelo aprì il secondo sigilo, udì la seconda creatura vivente che diceva, Vieni e venne fuori un altro cavallo, rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uno gli altri. E gli fu dato una grande spada. E coloro che seguono gli insegnamenti che ho sempre fatto, possono già immaginare di chi sta parlando qui. Non sta parlando dell'altro che Esau. Ok? I figli di Esau. I figli dei malvagi. Ok? E dice l'angelo e il cavallo era rosso. Ok? E questo rosso rappresenta proprio il colore dell'Esaú. Ok? Scusatemi. Ops. Rappresenta il colore dell'Esaú. E lo possiamo anche vedere, per esempio, scusatemi un attimo che giro il telefono che non lo sto vedendo più bene. Eccoci qui. Nel libro di Genesi, penso, capitolo 25. Vediamo 24. Scusatemi. Anzi, mi piace leggere questo. Questa versione qui. Perché mi sa che questa versione ha spiegato meglio. Scusatemi. E nel 25 come... Eccoci qui. E si trova... Iniziamo. Beh, comunque, per capirne meglio, andate a vedere il video che ho fatto sui malvagi. Chi sono i malvagi? Ok? Io inizio a leggere dal versetto 22. Ma nel suo grembo... Ma nel suo grembo... Questa è Rebecca, la moglie di Isacco. Interrogò il signore. Interrogò il signore. E il signore le disse... In te ci sono due nazioni. Da te usciranno due popoli rivali. Uno sarà più forte dell'altro. Il maggiore servirà il migliore. Quando venne per lei il tempo di pattorire, ebbe due gemelli. Il primo che uscì era tutto rusiccio. Comunque non cercavo proprio la parola giusta. Perché... Vedete il motivo perché dovete... Scusatemi che versione era questa. Dovete... Paragonare... Ok? Le versioni. E capire bene. Per capire bene. Per capire bene. Ecco qui. Vedete? E quando venne per lei il tempo di pattorire. Ecco. Che la aveva due gemelli nel grembo. E il primo che uscì fuori era rosso. E tutto quanto come un mantello di pelo. Ok? Perché a quell'epoca... Prendevano le pelle di capra degli animali. Quelli che erano un po' rusicci, no? E... Si. E... Li facevano... Come si dice? Com'è la parola? Li dipingevano di diversi colori. Ok? Il colore rosso. E già avete visto. Il primo è uscito fuori rosso. E chi sono i bambini che escono fuori rosso? I figli, i bambini del caucaso. Perché si può vedere direttamente il sangue nel loro corpo. Ok? Perché sono prive di melanina. Questa è scienza. Ok? I caucasi sono bianchi perché... Non sono nemmeno bianchi. Non esiste bianco e nero. Esiste rosso e marrone. Ok? E sono rossi perché sono privi di melanina. Perciò volevo tirarvi fuori questo colore rosso. Perciò Esau è conosciuto come l'uomo rosso. Ora torniamo al libro di Apocalisse capitolo 6. E eravamo qui e leggiamo. E quando ebbe aperto il secondo suggello io udì la seconda creatura vivente che diceva Vieni e uscì fuori un altro cavallo rosso e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni agli altri. E gli fu dato una grande spada. Qual è questa spada? La spada rappresenta... La spada rappresenta l'arma. Ok? Infatti vi faccio vedere velocemente sempre dal libro di... Sempre Genesi 27. 27 e... 38. Ed Esau disse al suo padre Non hai tu che questa benedizione padre mio? Cioè la parola giusta se vedete altre versioni diceva O padre non hai neanche una benedizione per me perché suo fratello aveva preso la benedizione. Benedici anche me o padre mio. Ed Esau alzò la voce e pianse. Esau al suo padre rispose e gli disse ecco la tua dimora sarà priva della grassezza... No anzi andiamo perché vedete questa versione è tutto girato. Vediamo era veduta 24. No? Voglio questa. Ok? Allora Esau disse al suo padre Hai tu questa sola benedizione padre mio? Benedici anche mio padre mio. Quindi Esau alzò la voce e pianse. Suo padre Esau rispose e gli disse ecco la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. No questo non è giusto perché lui è stato benedetto proprio con il grasso. Vediamo questa versione. Avete visto perché dovete proprio paragonare diverse versioni perché qui in Italia avendo il Vaticano che è la sede di tutti i demoni. Ok? Loro vi contraddicono tutto. Là le due versioni che abbiamo visto c'era scritto priva. Invece qui che vuol dire senza invece qui questa è la giusta ecco la tua stanza sarà in luogo in luoghi grassi di terreno e per la rugiada. No vedi neanche questo lo dice perfettamente bene ma è già diverso. Vediamo. Tu dovrai stabilirti lontano non lontano dai. Oh mamma mia. Vediamo questa versione cosa dice ecco la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai dalla tua spada. Questo è il punto che vi voglio fare vedere ma vi dico che questo è tradotto male perché lui ha detto la tua dimora sarà proprio il grasso della terra. Se ve lo faccio vedere nella versione inglese e in altre diverse versioni vedrete che la sua dimora gli è stato dato il grasso della terra ma non subito e per dopo. E dice tu vivrai dalla tua spada che è la spada che abbiamo visto qui nel libro di Giovanni Apocalisse scusatemi. Quando l'angelo apre il secondo sigillo di la seconda creatura vivente che diceva vieni e viene fuori un altro cavallo rosso e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra finché gli uomini si uccidessero. Gli uomini gli uomini gli altri e gli uomini gli uomini gli uomini. E gli fu data una grande spada, spada vuol dire ok? i suoi armi e quella spada proprio che intendeva qui erano i missili ok? Per darvi altri percetti che questo si parlava dell'esaw ok? Infatti perché qui è stato dato il potere di togliere la pace Andiamo a vedere Libro di Proverbi Proverbi capitolo 29 Versetto 2 E dice Quando i giusti sono numerosi Il popolo Ma comunque la parola che dovrebbe essere qui è Quando i giusti sono al potere Andiamo a vedere Un'altra versione Questa dice la stessa cosa Avete visto? Quando i giusti sono al potere Eh carissimi fratelli dovete Dovete avere lo spirito infatti Per capire le scritture in italiano Perché non vi basta una sola Hanno fatto un miscuglio proprio nella traduzione Hanno tradotto per nascondervi certe verità Ok? Quando i giusti sono al potere Il popolo si rallegra Ma quando governa Qui dovrebbe essere i malvagi Non un disonesto Infatti andiamo a vedere Un'altra versione Ma quando domina Lempio Il popolo geme Ok? Il popolo si era triste Vedete questa parola Lempio Ok? Andiamo ora Va bene che l'hanno messo così Andiamo nel libro di Malachia Ora andiamo a vedere Chi sono questi Ok? E inizio A leggere da versetto 2 E inizio a leggere da qui Sì comunque sta parlando con i figli di Israele Se leggete dall'inizio Anzi leggiamo dall'inizio Ora con la parola del Signore Rivolta a Israele Per mezzo di Malachia Io vi ho amati Dice il Signore E voi dite In che modo ci hai amato? Esaù non era forse fratello di Giappone Dice il Signore Eppure io ho amato Giacobbe E ho odiato Esaù Ho fatto dei suoi monti Una desolazione E ho dato La sua eredità Ai schiacciali Del deserto Per capire questo versetto Andate a vedere Chi sono i malvagi Era La prima dimora di Esaù Che a giorno d'oggi Si trova A Giordania Petra Che si chiama Isier Ok? Edom Dice Edom è Esaù È la stessa cosa Il suo nome è stato cambiato Poi Edom Questo si trova nel libro di Genesim Sto a 34 Se non sbaglio Comunque Andate a vedere i video Che ho fatto I video Chi sono i malvagi Edom dice Non se Questa parola È stato Ok Non è proprio come così Edom dice Noi siamo stati Aniettati Ma Torneremo E costruiremo I luoghi ridotti In rovine Così parla Il Signore Dese Eserciti Essi Costruiranno Ma io distruggerò Saranno chiamati Territorio Dell'impietà Popolo Contro il quale Il Signore È sdegnato Per sempre Per sempre Territorio Dell'impietà E andiamo a vedere qui Subito Che abbiamo visto Nel libro I proverbi Che era Capitolo 29 Versetto 2 Quando i giusti Sono numerosi Ma la parola giusta Sarebbe Quando i giusti Sono al potere Il popolo Si rallegra Ma quando domina Lempio Quello che abbiamo Appena visto Sono gli Esauditi I figli di Esau Il popolo Geme Ok E Va bene Andiamo avanti Torniamo al libro Di Apocalisse Spero che Avete capito Questo punto Qui Ora torniamo a leggere Quando l'angelo Aprì il secondo sigillo Udì la seconda Creatura vivente Che diceva Vieni E venne fuori Un altro cavallo Rosso E colui Che lo cavalcava Fu dato Di togliere La pace Dalla terra Affinché Gli uomini Si uccidessero Gli uni Gli altri Gli fu data Una grande Spada Questo verso Questo Questo cavallo Rosso Intende Quando è andato In potere Esau I figli di Esau Che sono I malvagi Coloro Che il padre È sdagnato Per sempre Ok Andiamo avanti Quando l'angelo Aprì il terzo sigillo Udì la terza Creatura vivente Che diceva Vieni Guardai e vidi Un cavallo Nero E colui Che lo cavalcava Aveva un bilancio In mano E udì Come una voce In mezzo Alle quattro Creature viventi Che diceva Una misura Di frumento Per un denaro E tre misure D'ozo Per un denaro Ma non danneggiare Né l'olio Né il vino Ok Qui È un cavallo Nero Si intende Schiavitù Ok Schiavitù E si intende Quando Gli americani Sì I così chiamati Americani Che sarebbe La Babilonia Sono andati A prendere I figli Di Israele Dalle parti Dove Sd'Africa E li hanno portati In schiavitù Ok Quella bilancia Che vedete lì Vuol dire Schiavitù Ok Quando Hanno cominciato A rendere La vita Difficile Difficile Ok E Per darvi un precetto Andiamo a vedere Dal libro Di Gioele Gioele Capitolo 3 Il versetto 3 Hanno tirato A sorte Il mio popolo Hanno dato Un ragazzino In cambio Di una prostituta Hanno venduto Una ragazzina Per del vino E si sono messi A bere Ok Avete capito E andiamo anche A leggere Proprio Il libro Di Dette Con nome Io Capitolo 28 Versetto 47 Che dice Per non aver servito Il Signore Il tuo potere Yahweh Con gioia E di buon cuore In mezzo All'abbondanza Di ogni cosa Servirai I tuoi nemici Che il Signore Manderà Contro di te In mezzo Alla fame Alla sette Alla nudità E alla mancanza Di ogni cosa Ed essi Ti metteranno Un gioco Di ferro Su colo Finché ti abbiano Distrutto Ok Ti metteranno Un gioco Di ferro Su colo Ora Se voi Andate Se andate Perdonatemi Se andate Su Google E scrivete Gioco Di ferro Schiavito Ok Senza nemmeno Scrivere Nessuna nazione E andate A cerca Chi vedete I figli di Giuda I figli di Giuda Ok I figli di Israele E' la prima cosa Che vi farà vedere Ed è visto Ed è visto Infatti Se io Lo scrivo In inglese Che gioco Vuol dire Yoke of iron Yoke Of iron Senza scrivere Nessuna Vedete Qui vedete Proprio le foto Come si deve Avete visto Questo Questo è E l'unico E l'unico popolo Sulla terra Che ha sofferto Questa roba Di schiavitù Sono I così chiamati Negri I latini Ok E E I nativi Americani Ma soprattutto I così chiamati Negri Ok Se guardate Vedete Vedete Guardate Questa foto Qui Questa E' una foto Verissimo Infatti Leggere Su questo Schiavo E' fortissimo Guardate Cosa doveva Fare Dove Incatenavano Anche i piedi Ok Guardate Prego Il padre Vi apre gli occhi E vi fa capire Quello che c'è da capire Ora torniamo E leggiamo E capirete Di cosa si intende Qui Andiamo In versetto Quando L'angelo Apre Il terzo sigillo Di la terza Creatura Vivente Che diceva Vieni Guardai E vidi Un cavallo Nero Schiavitù E colui Che lo cavalcava Aveva una bilancia In mano Ok Che vuol dire Il suo Il suo potere I suoi giudizi Ok Noi eravamo Senza nessuno A giudicare Contro di loro Non avevamo Niente a che Aggrappare Quando sono venuti A prenderci Schiavi Ok In mano E udì Come una voce In mezzo Alle quattro Creature Viventi Che diceva Una misura Di frumento Per un denaro E tre misure D'orzo Per un denaro Ma non danneggiare Né l'olio Né il vino E Vedete Ma non danneggiare Né l'olio Né il vino L'olio Qui Rappresenta La conoscenza Ok Il vino L'olio E il vino Rappresenta La conoscenza Ok La conoscenza E rappresenta Proprio Le scritture La conoscenza Di questa scrittura Anzi Mettiamo che rappresenta La scrittura Ok La conoscenza Della scrittura E Anzi Vado a tirarvi un precetto Per farvi capire Bene E Inizio Ce ne sono comunque Tanti precetti Che vi fa capire Che L'olio Si intende Anzi Vado subito Sul libro Di proverbi Libro di proverbi 21 Versetto 20 Che dice In casa del saggio Ci sono tesori preziosi E olio Ma l'uomo Stolto da fondo Ha tutto Ma in casa Del saggio Ci sono tesori preziosi E olio Questo olio Rappresenta La conoscenza Ok Vi leggo anche Dal libro di Isaia Libro di Isaia Capitolo 33 Versetto 6 I tuoi giorni Saranno resi sicuri La saggezza E la conoscenza Sono una ricchezza Di liberazione Il timore del Signore È il suo tesoro È il tesoro di Sion Ok Quell'olio Quello Quello che rappresenta Di voi con un gran Di voi con un gran furore Sapendo di aver poco tempo Ok Ma comunque No anzi Scusatemi Vi faccio vedere un altro precetto Che vi farà capire meglio Quelli sono erano un attimo più profondi Libro di Matteo Libro di Matteo Era 25 E uno Questo è la parabola Dei dieci vergini Ok Che infatti Dovrei fare un video Su questo Allora Il regno dei cieli Sarà simile A dieci vergini Le quali prese le loro lampade Uscirono A incontrare lo sposo Cinque di loro erano stolte E cinque erano E cinque avvedute Ok Perciò se continuate a leggere Vedete le stolte Sono andate con le lampade Con poco olio E invece quelli Che erano saggi Avevano olio extra Ok Perciò quell'olio Rappresenta La conoscenza Di queste scritture qui Perciò se torniamo Al libro di proverbi 21 E 20 Qui lo vedete proprio direttamente Che lo dice In casa del saggio Ci sono tesori preziosi E olio Quell'olio È la conoscenza Perciò Gli è stato I padri Gli hanno impedito Sì Sono riusciti A portarci in schiavitù E tutto Ma non sono riusciti A togliere A danneggiare Proprio la conoscenza Perché se era possibile E colui E colui che lo cavaccava Aveva un bilancio In mano E udì Come una voce In mezzo Alle quattro Creature viventi Che diceva Una misura Di frumento Per un denaro E tre misure Per un denaro Ma non danneggiare Né l'olio Né il vino Non danneggiare La conoscenza Ok Quando l'angelo Apri il quarto sigillo Udì la voce Della quarta creatura Vivente Che diceva Vieni Guardai E vide un cavallo Giallastro E colui Che lo cavaccava Si chiamava Morte E gli veniva Dietro L'Hades Anzi Questo Si rappresenta La morte Ok La morte Quello che rappresenta Non datemi un attimo Sto controllando Qui la mia scrittura In inglese Ok E infatti Devo fare un'altra lezione A riguardo L'inferno Che questa parola qui La adesso Sarebbe L'inferno Ok Sarebbe più o meno L'inferno Quello che dicono Questa è Filosofia greca L'inferno Vero Non esiste L'inferno È proprio Se lo vive È uno stato D'animo Che si vive Sulla terra C'è gente Che vive In inferno In inferno Sulla terra E c'è gente Che vive Il proprio paradiso Sulla terra Ok Ma Questa È tutta Un'altra lezione Ok E Quello che vi posso Voglio puntare Questo è Questa è la morte Guardai e vedi un cavallo Giallastro E colui che lo cavalcava Si chiamava Anzi C'è scritto qui Si chiamava Morte E li veniva Da dietro L'ades Fu loro Dato potere Sulla quarta Parte della terra Per uccidere Con la spada Con la fame Con la mortalità E Con Le belve Della Terra Ok E per darvi Un precetto Su questo versetto Vi leggo Sempre Dall'Apocalisse Ma Capitolo 20 Scusatemi Capitolo 20 Versetto 14 Poi la morte E l'ades Furono gettati Nello stagno Di fuoco Questa È la morte Seconda Cioè Lo stagno Di fuoco Ok E se qualcuno Non fu trovato Scritto Nel libro Della vita Fu gettato Nello stagno Di fuoco Ok Avete visto Poi la morte E come si fa E come si fa A gettare L'inferno Nel fuoco Avete visto L'inferno Proprio vuol dire La morte Ok Anzi Anzi la parola Dietro l'Apocalisse Fu loro Fu loro dato Potere Sulla Quarta parte Della terra Per uccidere Con la spada Con la fame Con la mortalità E con le belve Della terra Ok Per darvi un altro Precetto Andiamo sul libro Di Isaia Il versetto Si capisce Facilmente Era Isaia 14 Versetto 9 Il soggiorno Dei morti Laggiù Si agita Per te Per venire A incontrati Al tuo arrivo E si sveglia Per te Le ombre Tutti I principi Principi Della terra Fa alzare Dai loro Troni Tutti i re Delle nazioni Ok Io spero Che Abbiate capito Proprio Quello che sta dicendo Questo libro Se non lo capite Vuol dire che Lo spirito Non lavora Con voi Ok E Se sentite Proprio La necessità Di capirlo Pregate Se vi verrà dato Pregate al nome Le padre Yahweh Nel nome Di suo figlio Yahweh Shai Se non vi viene dato Non Non siete contatti Con i numeri Mi dispiace Ok Perché questa conoscenza È data A pochi Ok E Sapete che era questo Questo era Esau Sempre Esau È la stessa persona Ok Questo è la Esau Guardai e vide Un cavallo Gelasto E colui Che lo cavalca Si chiamava Morte E gli veniva Dietro Lades Fu loro Dato Potere Sulla Quarta Parte Della Terra Per uccidere Con la spada Vi ricordate Che lui La sua benedizione Era la spada Ok Con la fame Con la mortalità E con le belve della terra E come abbiamo letto Nel libro di Apocalisse 20-14 Che dice che Furono gettati Nel fuoco Ok La morte Ok Lades Furono gettati Nel fuoco Sta parlando Dei Figli di Esau Ok E quel tempo Stiamo per arrivare A quel tempo Ok Anzi Siamo nei due tempi Loro sono stati dati Questo potere Fin dai tempi Di Fine medievo Ok Andiamo avanti Quando l'angelo Aprì Il quinto sigillo Vedì sotto L'altare Le anime Di quelli Che erano Stati uccisi Per la parola Di Padre Yahawa E per la testimonianza Che Li avevano Resa Essi Gridarono A gran voce Fino a quando Aspetterai O Signore Santo E veritiere Per fare Giustizia E vendicare Il nostro sangue Su quelli Che abitano Sopra la terra E ciascuno E ciascuno di essi Fu dato Una veste Bianca E fu loro Detto Che Si riposassero Ancora un po' Di tempo Finché fosse Completo Il numero Dei loro Compagni Di servizio E dei loro Fratelli Che dovevano Essere uccisi Come loro Ok E questo Sta parlando Chi sono i santi I figli di Israele Ok Esau Vi è stato Dato Il potere Su di loro Ok E lui Li ha ucciso E quando Muore un israelita Qui Quando torna Nel mondo Dello spirito Prima di essere Dato un altro Corpo Per tornare Suo spirito È là Che prega Ok E per darvi Darvi dei precetti Questi sono proprio Gli apostoli Comunque Sono gli apostoli Che Quelli che hanno Lavorato Per la giusta Causa Dei padre Che per esempio Vi leggo Dal libro Di Atti Per farvi capire Che gli esauditi I figli di Esau E da tanto Che Che ammazzano Ok Gli apostoli Era in capitolo 12 In quel periodo I re Erode Cominciò A maltrattare Alcuni Della chiesa E fece uccidere Di spada Giacomo Fratello di Giovanni Ok Vedendo Che era Gradito Ai giudei Continuò E fece Arrestare Anche Pietro Erano I giorni Degli Eattimi Ok Erode Era Edomita Ok Perché In questo Periodo Qui I romani Hanno avuto Controllo Su Israele Ok Erano I loro Governi A governare Sui figli Di Israele Perciò Erode Era un'edomita E loro Uccidevano Tutti gli apostoli E secondo voi Perché Perché Li uccidevano Perché Parlavano Di pace Amore No Perché Parlavano Della verità Che non Li andava Bene La verità Che faceva Vedere Proprio Chi erano Ok Ed è questa Verità Che vi Sto Condividendo Perciò Torniamo Dove Eravamo Questi Erano Ok No Scusatemi Apocalisse Sei Quando L'Angela Prì Sigilo Vedi sotto L'altare Le anime Di quelli Che erano Stati Uccisi Per la Parola De Yahawa E Per la Testimonianza Che Li avevano Resa Essi Gridarono A gran Voce Fino A quando Aspetterai O Signore Yahawa Santo E Veritiere Per fare Giustizia E Vendicare Il nostro Sangue Su Quelli Che Abitano Sopra La Terra E A Ciascuno Di Essi Fu Dato Una Veste Bianca E fu Loro Detto Che Si Riposassero Ancora Un po' Di Tempo Finchè Fosse Completo Numero Dei Loro Compagni Di Servizio Ok Questi Questi Sono Gli Apostoli Che Sono Stati Uccisi Ok Andiamo Avanti Guardai Di Nuovo Quando L'angelo Apri Come Mai L'angelo Scusatemi Sì Sì Ok Andiamo Su Un'altra Lezione Per Vedere Va bene Poi Vedi Quando L'angelo Apri Sesto Sigilo E si Fece Un Gran Terremoto Il Sole Diventò Nero Come Un Sacco Di Crine E La Luna Diventò Tutta Come Sangue Le Stelle Del Cielo Cadero 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 Sulla Terra Sulla Terra Come Quando Un Fico Scosso Da Un Forte Vento Lascia Cadere I Suoi Fichi Immaturi Ok Mi sa Che Non ho Letto Un Versetto Qui Si Ah Giusto Ok Anzi Su Questo Questo Versetto Undici Ce ne Sono Tanti Procetti Ok Ho Saltato Ho Saltato Un Po Di Procetti Qui Perciò Anzi Andiamo Direttamente Non Volevo Fare Troppo Lungo Questo Video Qui Perché Ho Notato Che Quando I Video Sono Troppo Lunghi La Gente Non Non Lo Guarda Ok Ma Va Bene Coloro Che Conoscono L'importanza Di E Posso Anche Dare Diversi Procetti Che I Giusti Quando Muoiono Che Pregano Nel Mondo Dello Spirito E Le Loro Preghiere Arrivano Padre Ok Per E Per Vi Do Diciamo Vi Do Altri Due Altri Due Procetti Dal Libro Di Apocalisse Che Siamo Qui Ma Ce Ne Sono Altri Tanti Ma Andiamo A Vedere Velocemente Solamente Questi Due Allora Apocalisse 14 Quattordici E Tredici E udì una voce da cielo che diceva scrivi beati morti che da ora innalzi muoiono nel signore Si dice lo spirito essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono E quali sono le opere Queste opere di condividere la verità Ok Vediamo dal versetto 17 Perdonatemi Dal versetto 1 Poi uno dei sette angeli che avevano le sette copie Viene a dirmi Vieni ti farò vedere il giudizio che aspetta la grande prostituta che sede su molte acque I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il suo vino e la prostituzione E li mi trasportate in spirito nel deserto e vidi una donna seduta Anzi Questo è molto molto profondo Profonda Ok Farò un altro video per farvelo capire Comunque per dire quello che volevo dirvi E' che quel versetto parla Dei apostoli morti Dei apostoli uccisi proprio per la giusta causa Che è quella di condividere la verità Che è questa verità qui Ok Allora andiamo al versetto 12 Poi vidi quando l'angelo apre il sesto sigillo e si fece un gran terremoto Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutto sangue Le stelle del cielo cadero sulla terra come quando un fico scorso da un forte vento Lascia cadere i suoi fichi maturi Il cielo si ritirò come una pergamena E si arrotola E ogni montagna e ogni isola furono rimosse dai loro luoghi Ok E qui secondo voi di che cosa si sta parlando Qui non sta parlando che altro dei missili Ricordatevi quando Quando Giovanni vedeva questa visione qui Vedeva un futuro Vedeva delle cose che non aveva mai visto E perciò doveva spiegare con le sue parole E andiamo a vedere alcuni video Che vi ho messo a parte Guardate questo video e torniamo Le stelle che dicevano e cadevano come i fichi Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Ok come avete visto Vi farò vedere un altro video Grazie a tutti 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 이� fields of the original calculations made 50 years ago ero off by a full mile instead of 35,000 feet it was something like 40,000 feet and it was because of the way they measured it that made a wonder if calculations from all the other blasts were wrong as well it was more than just academic curiosity those calculations are used to predict the performance which sprigs calls the yield of today's weapons if you measure the shockwave radius and you're off by one percent you will be off by 5% in the yield. So Spriggs set out to reanalyze and then release to the public the estimated 9,000... Eccoci qui, come avete visto. Ora torniamo a leggere così capite. Poi vedi, quando l'angelo apre il sesto sigillo e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di ciprine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caderono sulla terra come quando un fico scosso. Da un forte vento lascia cadere i suoi fichi maturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse da loro luoghi. Ok, qui si sta parlando non altro di quelle scene che vi ho fatto vedere. Infatti da questo versetto fino alla fine parla della fine che farà la terra. Ok? Il padre li metterà allo spirito e cominceranno a combattere uno contro l'altro con missili. Ecco perché li stanno preparando. Ok? E dal versetto 15 sarà il prossimo video che farò perché ho dei pricetti su questo versetto qui fino alla fine. Perciò voglio fare un altro video con calma per non tirare troppo lungo questo video qui. Perciò sarà la lezione che farò domani. Yahava Bashem Yahava Shai volendo. Ok? Spero che abbiate capito e spero che siete stati edificati. E detto questo ringrazio il padre Yahava Bashem Yahava Shai nel nome di suo figlio Yahava Shai Ok? E quello Bashem Ok? E i miei doppi onori agli apostoli della Great News Tom per avermi insegnato questa verità e Shalawam alla Casa di Israele a coloro che cercano con sincerità questa verità. Alla prossima. Shalawam